Sarà pubblicato a giorni il bando per la dote Martina Bonavera per l'anno scolastico 2018-2019, voluto dall'Associazione Martina Bonavera con il Comune di Belluno per aiutare le famiglie in difficoltà economica a sostenere le spese di partecipazione ai viaggi di istruzione di studenti in condizioni svantaggiate. Spesso le gite vengono intese come dei momenti ricreativi fini a se stessi, invece sono parti fondamentali della crescita e del processo educativo. E quindi è fondamentale che tutti i bambini e tutti i ragazzi possano partecipare a questi momenti insieme ai loro compagni. Spesso il costo però diventa davvero difficile da sostenere per le famiglie, come lo sono altri costi legati alla vita dei ragazzi, dalla scuola allo sport, ed è bellissimo incontrare la disponibilità da parte dell'Associazione di sostenere questa attività importante. Come Comune siamo felici di collaborare e quindi sostenere la parte più burocratica e amministrativa che un'associazione non avrebbe la forza e non potrebbe chiaramente sostenere da sola. La graduatoria degli aventi diritto sarà stilata sulla base di questi requisiti. Residenza nel Comune di Belluno, frequenza di una scuola secondaria di secondo grado pubblica del Comune di Belluno, non aver già percepito alcun contributo con finalità analoghe, ISEE ordinario pari o inferiore a 12.000 euro. I contributi, cumulabili per famiglia ma non per persona, saranno divisi in scaglioni. Con ISEE pari o inferiore a 8.000 euro il contributo sarà di 200 euro. Con ISEE compreso tra 8.000 e 10.000 euro il contributo sarà di 150 euro e con ISEE compreso tra 10.000 e 12.000 euro il contributo sarà di 100 euro. Tutti i moduli per la richiesta saranno disponibili sul sito del Comune di Belluno e l'iniziativa sarà pubblicizzata già in questi giorni in tutte le scuole del territorio comunale con volantini e locandine.